Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa, oggi è mercoledì 17 luglio e questa è la Rassegna Stampa di Fano TV Occhio e Giornali che inizia in questa nuova collocazione oraria alle 7 del mattino. Dunque siamo in diretta, questo lo dico a beneficio di chi ci segue in replica, la diretta è alle 7, alle 7.30 poi abbiamo la Santa Messa da Loreto e poi di nuovo le repliche alle 8.30, 9, 11 e 13.30. Questi sono gli orari in televisione, poi avete a disposizione come sempre l'on demand in qualsiasi ora del giorno e della notte. Cominciamo dal Santo del Giorno, andiamolo subito a vedere. Oggi la Chiesa tra i vari Santi e Beati ricorda le Beate Martiri di Compiagni. Il sole è sorto alle 5.41 e tramonterà alle 20.48. Andiamo a vedere il tempo, oggi è mercoledì, questa è la situazione così come prevista dal bollettino della protezione civile delle Marche. Per oggi avremo cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento. Per la giornata di domani, giovedì 18, sereno o poco nuvoloso con transito nel pomeriggio di nuvole che porteranno anche pioggia pomeridiana, isolati rovescio temporali nelle zone alto collinarie montane. Le temperature sono in lieve diminuzione nei valori minimi. Venerdì 19 luglio, ancora temporali, rovescio temporali sparsi nelle ore pomeridiane e nella fascia collinare montana in esaurimento verso sera. Le temperature sono in aumento quelle della notte. La tendenza per i prossimi giorni, lieve instabilità pomeridiana nelle zone montane per sabato e domenica, a cui seguirà un periodo di tempo soleggiato per la permanenza dell'anticiclone della Zorre che garantirà dunque bel tempo ma anche temperature decisamente in aumento. E a proposito di temperature, velocemente diamo uno sguardo anche a quelle previste per le ore 14 di oggi. Come vedete Ancona 27 gradi, a Iesi 28 così come Macerata e Pesero Fano, 28 gradi sulla costa anche a Porto Sant'Elpidio e 27 Senigallia. Nell'entroterra invece la temperatura più bassa che si registrerà sarà quella come sempre a Monte Bovesud dove ci saranno 15 gradi. Allora, i giornali, andiamo subito a vedere i titoli e le notizie all'interno dei quotidiani, Corriere Adriatico, Resto del Cardino, le edizioni di Pesero Urbino. Vediamo subito il Corriere Adriatico e questa è la pagina d'apertura. Fiera di San Nicola anticipata, gli ambulanti sono tutti sul piede di guerra, tutti arrabbiati, un fallimento. La notizia trapela a loro insapute, scoppia il caos, Pieri dice così, prendiamo anche il weekend. Dunque la Fiera di San Nicola ha queste date spostate, ha insapute di alcuni ambulanti e scoppia la polemica. Leggeremo anche alcune motivazioni tra poco. Lo scambio di favori per le centrali biogas, a sentenza il processo sugli iter aggiustati per l'ok agli impianti. Tre anni e mezzo al funzionario regionale Cossignani, pene fino a due anni per quattro imprenditori. La bella notizia sulla pagina del Resto del Cardino, la fotonotizia riguarda la buona sanità. Io miracolato dei medici, un ragazzino di 14 anni, lo vedete nella fotografia, operato per un tumore al cervello. Michelle o Michael con i genitori e il primario, l'etterio morabito. E poi si parla anche qui della Fiera di San Nicola, la guerra delle date. Il Comune anticipa, gli ambulanti protestano. Fumo contro Ricci anche la regione. Si parla delle bionde in spiaggia e di calcio, il calcio di luglio. La Vis Pesero riparte dal ritiro di Cantiano con il saluto dei tifosi. E poi il rogo in casa ad Apecchio, salvati madre e figlio. E questa invece è la storia, o meglio, è il racconto di questa ragazza, Laura Balocchi, che è stata colpita dal Maxi Schermo l'altra sera in Piazza del Popolo a Pesero. Lei dice, mi sono spostata appena in tempo, era lì per ascoltare l'orchestra e le canzoni di Michael Jackson. C'era questo omaggio a questo cantante, un concerto gratuito che rientra nei concerti di Xan Italia. Si svolgeva lunedì sera in Piazza del Popolo, come dicevo, fino all'ultimo. Non si sapeva tra l'altro se il concerto sarebbe stato fatto oppure no a causa delle incerte condizioni del tempo. Un colpo di vento improvviso potrebbe essere stata la causa appunto dell'accedimento di questa struttura. La struttura, eccola qua, ve l'abbiamo fatta vedere anche ieri mattina con tanto di fotografie e di video. Lei dice, per fortuna ho visto che quella struttura mi stava cadendo addosso e quindi mi sono spostata. Ovviamente, insomma, ha avuto paura. Tra l'altro lei dice, anzi, la madre vanda, racconta, non mi si dica che è colpa del vento. Soprattutto vicini c'erano tanti, tanti bambini. Mentre colui che ha montato la struttura, dice io, montata a regola d'arte, quindi lì purtroppo credo fosse solo appunto problemi del... È stata una folata di vento improvvisa che ha fatto cadere questo schermo. È stato solo un caso fortuito, imprevedibile. Nessuno ci poteva fare nulla. Queste invece sono le fotografie della casa in fiamme a Piobbico, dove sono stati salvati due anziani in extremis. Si tratta di madre e figlio. Madre di 91 anni e figlio di 68. Si tratta di Armida Barzotti, 91 anni, e suo figlio Franco Paiardini, di 68, che si trovavano in quel momento in casa a Piobbico, in località San Mariano, in via Dante Alighieri. Erano le 8, poco prima delle 8, quando i vicini hanno sentito delle grida e richieste di aiuto e nel contempo hanno visto dalla finestra delle lingue di fuoco. Era la bombola del gas che si era incendiata e le fiamme che stavano divorando la casa. Poi, come abbiamo raccontato anche ieri nel telegiornale, sono stati soccorsi queste due persone da un pompiere in pensione e poi anche dai vicini e due carabinieri. Nelle fotografie vedete l'interno, come è stato ridotto, la cucina praticamente devastata, il soffitto completamente compromesso e questo è l'esterno dell'abitazione, come vedete ancora i segni del fumo nero e la bombola che ha fatto scaturare le fiamme. La storia invece di questi, qui andiamo a San Costanzo, vicino a San Costanzo, la storia che vi abbiamo raccontato ieri di queste tre caprette che sono state sbranate dai lupi, lupi però che si avvicinano ormai, possiamo dirlo tranquillamente, sempre di più al centro abitato, ai paesi, come in questo caso San Costanzo, è il momento di intervenire, dice Gabriele Nataloni, che abbiamo intervistato anche noi nel telegiornale di ieri sera alle 20.30. queste tre caprette sono state tutte e tre sbranate, c'erano anche due femmine incinta, insomma la storia è una storia che si ripete ormai sempre più frequentemente, qualcuno ieri ha scritto perché parlare di lupi, potrebbero essere anche cani selvatici, insomma, però fatto sta che si avvicinano sempre di più alle abitazioni, siamo a 500 metri dal centro del paese e a 6 chilometri in linea d'aria c'è il mare, fino a pochi mesi fa una cosa del genere, racconta, era inimmaginabile e quindi, insomma, bisognerà ora davvero che qualcuno pensi a fare qualche cosa. Poi questa invece è la pagina di Fano del resto del Carlino, Torrette, Ponte Sasso, ultima spiaggia, erosione, assenza di servizi e zero parcheggi, monta la rabbia dei bagnini, via Fadi Bruno totalmente trascurata, andare a vedere la differenza, andate a vedere la differenza, con Marotte. Poi c'è la polemica, la polemica sul ponticello dell'Arzilla, finalmente si sa quando arriverà questo ponte, quando verrà installato e praticamente sarà nel pieno dell'estate, tra il 26 di luglio e il 2 di agosto, in questo range di tempo verrà installato questo nuovo ponte tra Lido e l'Arzilla. Interviene la Lega e quindi passa sul fronte politico e i leghisti sottolineano da un lato il ritardo rispetto alle dichiarazioni ufficiali che volevano il ponte pronto all'inizio della stagione turistica, dall'altro fanno notare che non c'è mai fino al peggio, pare che in concomitanza dei lavori di pose in opera di questo ponte il parcheggio ex Hotel Vittoria sarà chiuso per ospitare il cantiere, aggravando dunque la penuria di stali nella zona e sarà chiuso anche il tratto di via Sionetti dal parcheggio dell'Arzilla e per una giornata sarà interdetto l'accesso alla spiaggia del Lido 1. insomma un caos che sicuramente renderà la vita difficile a operatori e turisti. E giro di vite anche sulla sicurezza, se ne parla sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, ci sono delle notizie importanti perché così come avevamo annunciato ieri di questo tutor che probabilmente verrà installato sulla statale 16 Adriatica tra Fano e Pesaro per evitare che i cosiddetti furbetti pigino di più sull'acceleratore e vadano forte mettendo in serio pericolo non solo la propria vita ma anche quella degli altri. Ci sono delle importanti novità, dicevo, anche per la viabilità fanese. Per esempio a questa riunione che c'è stata presso la prefettura di Pesaro dove hanno partecipato anche l'assessore Sara Cucchiarini con il comandante della Polizia Locale di Fano Alessandro di Quirico un piano per rendere più sicure le strade fanesi. Innanzitutto per esempio sulla Flaminia, nel tratto di Flaminia che attraversano i centri urbani dove il livello di pericolosità è molto alto sia perché la gente va forte, va molto forte con la macchina non rispettano i limiti di velocità e sia perché non esistono in alcuni casi anche marciapiedi e piste ciclabili. Per esempio tra i primissimi provvedimenti, racconta Massimo Foghetti e scrive Foghetti sul suo articolo nel Corriere Adriatico di stamattina tra i primi provvedimenti che saranno presi c'è l'installazione di un cartello di divieto di fermata nei pressi del bar di Rosciano dove tra l'altro nei giorni scorsi è morto Maurizio Olivieri un operaio di 48 anni di San Costanzo. Poi c'è tutto il problema degli attraversamenti pedonali delle strisce che non si vedono, che sono state cancellate vuoi perché è stato rifatto il manto stradale vuoi perché l'usura del tempo e quant'altro insomma c'è la segnaletica che in città spesso e volentieri è invisibile non si vede e quindi qui bisogna fare veramente qualcosa quindi tutta quella parte della segnaletica orizzontale da rifare in tutta la città e ci sono da migliorare insomma alcuni punti alcuni parcheggi cittadini dove le cose insomma non vanno un granché ma è importante per esempio anche segnalare i punti pericolosi delle strade cittadini e fanesi con dei segnali anche luminosi. Brutte notizie invece arrivano da Bellocchi dove a causa dei pochi iscritti chiude l'asilo di Casa Serena l'istituto paritario gestito dalle suore era in attività dal 1939 i costi purtroppo sono diventati insostenibili come dice Suor Gabriella, la responsabile il decreto dignità dice non ci permetteva di rinnovare i contratti e dunque la scuola dell'infanzia intitolata San Sebastiano come la parrocchia lì vicino per volere di Monsignor Gentili chiuderà già dai suoi inizi l'opera fu affidata alle piccole suore missionarie della carità di Don Orione concessioni balneari al 2033 allora da una parte Oasi Confartigianato che è l'associazione di categoria che si occupa di far valere le istanze dei concessionari di spiaggia fa i complimenti al Comune di Senigallia che ha già prolungato le concessioni dei Magnali fino al 2033 e Andrea Giuliani che rappresenta Oasi Confartigianato si rivolge allo stesso tempo al Comune di Fano perché faccia altrettanto il Comune di Senigallia ha già rilasciato agli operatori balneari questi permessi fino al 2033 che cosa significa avere i permessi fino al 2033? cioè sapere che quel tratto di spiaggia lo puoi gestire fino al 2033 significa fare soprattutto investimenti significa che tu hai la possibilità di organizzare il tuo lavoro e investire fino a quella data diversamente tutto è incertezza annunciate proteste a Mondolfo fanno peso del Gabiccio Mare se non provvedono entro praticamente a luglio anche sul Corriere Adriatico di questa mattina c'è la notizia dell'Arzilla del Ponticello di questi disagi in vista nel clu della stagione sarà pronto come dicevamo il 2 di agosto ma per 7 giorni verrà occupata l'area del parcheggio Ex Vittoria e la Lega si scaglia dunque contro il tema del fumo del fumo vietato sulla riva sulla battigia vietato fumare sulla riva ma la battigia non c'è più nel senso che la mareggiata a Pesaro la mareggiata della scorsa notte ha portato l'acqua fin sotto gli ombrelloni e dunque la battigia insomma non c'è più quindi non solo le sigarette ma anche il posto dove fumarle il primo vero giorno di smoking free al centro dell'attenzione nelle spiagge ma ci sono più incertezze che sanzioni tra l'altro il primo giorno era molto nuvoloso quindi c'era poca gente ma comunque Righetti dice un provvedimento zoppo sarebbe stato meglio pensare a rafforzare le scogliere dopo 20 anni di attesa e se dovesse capitarti di beccare una sanzione amministrativa che va dai 25 ai 500 euro in base all'ordinanza comunale che vieta appunto di fumare sulla battigia delle spiagge e c'è la possibilità di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Tar contro l'ordinanza infatti è possibile per proporre ricorso giuridizionale entro 60 giorni dalla notifica al Tar di Ancona entro 120 giorni al Presidente della Repubblica che sicuramente avrà altro da fare dal primo agosto saranno assunti nove vigili urbani a Pesaro con tratti a tempo determinato per cinque mesi e con orari flessibili shopping sulla Renile invece nessuno teme le multe gli ambulanti continuano a vendere e i bagnanti ad acquistare dunque i venditori abusivi a parte il fatto che devono stare attenti alle retate per il resto continuano a vendere la loro mercanzia senza troppi problemi la questione invece per chi vende la mercanzia nelle varie fiere sparse ed estate ce ne sono tantissime sparse in giro per l'Italia c'è quella di San Nicola di Pesaro che rompe un pochettino le regole nel senso che non si farà più nelle canoniche date del 10, 11 e 12 di settembre bensì hanno pensato che quest'anno si poteva anticipare di qualche giorno quindi fare la fiera di San Nicola il 7 per poi concludersi il 10 e tutto questo perché? perché all'interno c'è il fine settimana e sappiamo tutti che insomma il fine settimana a livello commerciale porta soldi però c'è un problema qual è questo problema? il problema sono gli ambulanti innanzitutto dicono loro noi non siamo stati avvertiti in tempo primo problema secondo problema al di là dell'avviso chiaramente un ambulante immagino organizzerà la propria vita lavorativa con delle scadenze con delle con un'agenda ben precisa ebbene quei giorni lì per esempio molti di quelli che andavano alla San Nicola nei giorni dal 7 al 10 andavano a Spoleto che è un'altra fiera importante dove si guadagna se Pesaro cambia le date all'ultimo minuto capite che per gli operatori diventa un problema e comunque chi si oppone? dei 650 partecipanti sono 169 quelli che protestano tra cui 90 sono gli ambulanti storici e dice l'assessore Riccardo Pozzi la richiesta è arrivata dalle stesse associazioni di categoria ma e qui siamo sul Corriere Adriatico Pieri di Aspes difende si difende questa scelta così comprenderemo come dicevo un fine settimana ma tra chi fa polemica c'è appunto quelli che dicono l'effetto che faccio notare che per partecipare dovrò perdere la fiera di Spoleto con perdita dell'incasso come me ci sono altri 400 colleghi che saranno costretti a rinunciare ad altre fiere tipo Piobbico Pelingo di Acqualagna insomma noi siamo quelli che paghiamo chiedevamo la possibilità di guadagnare e non di perdere posti e quindi insomma poi c'è qualcuno che addirittura va a rivedere la legge e dice il cambio della data è illegittimo in quanto il comune non l'ha comunicato in tempo e snocciola l'ex articolo 37 della legge regionale 27 2009 ci sono delle verifiche tecniche sul cavalcaferrovia sempre a Pesaro si parte lunedì saranno 9 giorni di prove e disagi previsti restrizioni di carreggiata in due vie e il divieto di circolazione sulla pista ciclopedonale poi c'è una novità intanto patteggia il pusher bloccato dal titolare dell'edicola in via con tramite l'ex cestista lo ricorderete una notizia di qualche settimana fa aveva bloccato uno spacciatore nigeriano ebbene l'ex giocatore di basket che vedete nella fotografia contribuì al suo arresto e adesso deve scontare due anni ma dicevo la novità è questa anche l'altra sera nel telegiornale vi abbiamo parlato di un turista in vacanza a Pesaro che a un certo punto si è visto portare via l'automobile e si è visto ricattare da un 28enne che gli ha chiesto 1600 euro di riscatto per riavere l'auto ora pare che dietro a tutta questa cosa ci sia un ricatto sessuale una tentata estorsione per presunte prestazioni sessuali extra rispetto al prezzo pattuito ieri mattina in tribunale a Pesaro c'è stata l'udienza per il senegalese di 28 anni arrestato domenica dai carabinieri per aver rubato l'auto di un 57enne e chiesto 1600 euro di riscatto per riconsegnarla al proprietario ma dagli atti delle indagini emergono altri particolari che tra i due ci sarebbe stato un accordo per prestazioni sessuali ma il senegalese avrebbe preteso più soldi e così per farsi dare il denaro avrebbe sequestrato l'auto del signore tutti i particolari per chi ne fosse interessato insomma per chi fosse interessato sul corriere adriatico di questa mattina poi una borsa che è stata dimenticata nella stazione della 14 da una coppia di Milano che pensava ad un furto in realtà questa vistosa borsa arancione dentro conteneva soprattutto in fondo tanti gioielli tanta roba per un valore piuttosto ingente ed è stata trovata dal personale la donna delle pulizie l'ha trovata l'ha consegnata la polizia stradale e la stradale ha chiamato la coppia che nel frattempo poi era rientrata al nord e quindi era già a 400 km di distanza ciao Real il tuo esempio continua a vivere con noi siamo a Vallefoglia Alberto Renda se n'è andato giovedì 4 luglio alle 17.30 è morto e tutta la popolazione di Vallefoglia si è stretta numerosa attorno ai suoi cari trasmetteva ai ragazzi è stato un grande educatore e trasmetteva ai ragazzi l'impegno e l'amore per la conoscenza e ancora Piccioni questa è una notizia interessante a parte la segnalazione delle capre che sono state uccise dai lupi che trova spazio anche sul Corriere Adriatico però è interessante perché c'è questa notizia che riguarda l'agricoltura il mondo dell'agricoltura che ha a che fare con tanti flagelli che non sono soltanto i cinghiali i lupi e quant'altro ma c'è anche il piccione il classico piccione quello che i bambini con tanto amore alimenta nelle piazze di tutte di tutta Italia in mente ci viene subito Venezia sono stati abbattuti questi piccioni a migliaia invece dai forestali perché? perché creano dei disagi e dei danni enormi all'agricoltura beccano le sementi fino all'80% e sono insufficienti i rimborsi per i danni a culture e bestiame quindi insomma questa è un po' la situazione devo andare di corsa perché la segna sta finendo questa è l'ultima pagina di Senigallia luci su Dolce Nera Graziani e Mocca un trisdassi sulla spiaggia di Velluto stiamo parlando del cartellone estivo di Senigallia con tanti artisti e poi guardate questo post che è finito su Facebook e che sta facendo il giro il giro del web grazie anche a questo gruppo che si chiama insegnare la grammatica italiana a chi crea gruppi e ha intercettato sulla rete questo 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 post che dice questa estate andrò al mare a Senigallia speriamo che i senegalesi siano accoglienti con noi ora finto o vero costruito ad hoc o no resta il fatto che senegalesi proprio no senegalesi li salutiamo perché sappiamo che ci seguono in tanti grazie per essere stati con noi tra poco la Santa Messa perché ci segue in diretta da Loreto e noi ci vediamo stasera invece le 20 e 30 con il telegiornale arrivederci a presto